Oggi giornata di consiglio direttivo per la Figi Cim Molise per definire le ripescate e quindi gironi di eccellenza e promozione. Ricordiamo che nella massima serie non si sono iscritte alla Fidelis che ha scelto di ripartire dalla prima categoria ed il Baranello che ha scelto la promozione. Ratificata l'iscrizione della Volturnia che cambia di denominazione rispetto allo scorso anno, perde il nominativo della San Leucio poiché la scuola calcio Pentra si è affiliata al città di Zernia Rocca Sicura. Dalla seconda categoria regionale, pronte al ripescaggio di ufficio, Altilia, Samnium e Cliternina. Questa dunque la proiezione del campionato di eccellenza 2021-2022. Aurora Ururi, Boiano, Termoli, Castel di Sangro, Città di Zernia, Olimpia Agnonese, Pietramonte Corvino, Campo di Pietra, Polisportiva Gambatesa, Real Guionesi, Volturnia, Sesto Campano, Campobasso 1919, Venafro e le ripescate, Altilia, Samnium e Cliternina. In virtù delle rinunce e delle ripescate, la situazione in promozione è la seguente, tenendo in considerazione che la Polisportiva Portore non ha presentato la documentazione di iscrizione nei termini previsti. Quindi oggi in promozione abbiamo Atletico San Pietro in Valle, Atletico Torre Maggiore, Calcio Virtus, Gioiese, Campomarino, Guardia Alfiera, Maronea, Polis, Petacciato, Juvenes, Campobasso, Ripalimosani, Spinete, Termoli 2016, Trivento, Turris, il Baranello che come detto ha rinunciato al campionato di eccellenza per scendere in promozione, pronte al ripescaggio dalla prima categoria a Zernia e Donques Agnone. Tutte queste notizie verranno confermate nei TG Sport della sera.